ecco siamo a santa cruz proprio di fronte all'intercambio ad orche la stazione dei bus dove partono i bus per tutti i punti dell'isola ecco qui di fronte abbiamo la stazione della metro della metro della metro leggera per muoversi qui dentro santa cruz ora faremo un video dentro dentro la stazione ecco qui di fronte partono tutti i bus notturni c'è la linea 40 che è molto comoda per andare all'aeroporto a 41 ecco siamo all'interno della stazione la stazione è abbastanza grande in quanto come detto ci sono le partenze per diverse zone dell'isola ecco qui le varie zone per la pianta 1 e la pianta 2 ecco qui Questa è la pianta 1 E ora andiamo in alto sulla pianta 2 Ecco qua, siamo sulla pianta 2 Queste sono le partenze Qui di fronte abbiamo il corte iglese Qui di fronte è la pianta 2 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 Grazie.